Vi presento il professor Fabio Scerrino, professore di informazione quantistica alla Savienza Università di Roma. Prima che lui poi si presenti da solo e dica tutto quanto, vi dico che ieri è uscita una classifica dell'Università del Mondo e Fisica alla Savienza è la ventiduesima nel mondo. Davanti abbiamo solo americani, un paio di tedeschi, due giapponesi e uno svizzero. Passo la parola a lui che parlerà di questo quanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi vi farò una panoramica che inizierà dei fondamenti a megana quantistica con l'obiettivo di arrivare a vedere un po' cosa succede oggi in questo ambito. Facciamo ricerca in questo ambito da circa dieci anni, quindi vi racconterò tra gli addoni fisici che abbiamo visto, ho visto direttamente in laboratorio. Il primo detrasporto a cui ho partecipato in un fotone lo completai il 15 settembre del 2001, il quinta mercolavano, stavamo facendo esperimento e ci dicevo vabbè almeno finiamo questo esperimento, non per la pubblicare ma se il mondo dovesse collassare almeno avevo fatto il nostro piccolo passo nella scienza. Quindi tutto quello che vi racconterò è stato visto in laboratorio, quindi ed è a metà tra la fisica e la filosofia. Quest'anno è un anno particolare, 2015 perché l'anno internazionale della luce, c'è un'iniziativa del UNESCO, quindi durante quest'anno ci saranno diversi eventi di divulgazione scientifica in questo ambito e questo seminario si colloca in questo contesto. Allora prima di iniziare a parlare ho riportato due quiz dei ultimi giorni che fanno vedere un po' due aspetti su cui ci focalizzeremo oggi. uno è una foto che per i fisici è il resto di storia, una foto del 1927, dice questo Twitter, probabilmente la foto più intelligente mai presa. In questa cosa ci sono 29 persone, di questi 17 anni che hanno detto il primo Nobel. C'è una nota in matriculina 22, chimica e fisica. E questo è l'altro fondamentale che andremo a spedere, vedendo qua che sono presa questa fotografia. E adesso invece abbiamo il dato più moderno e speculativo, è un tweet di sette anni fa fatto da IBM Research che dice «We are entering the golden age of quantum computing» ed è appunto di fine aprile. E questo è l'altro più tecnologico, ovvero quello che si chiama il quantum computer, che non è ancora una realtà esistente, è una realtà in cui tutti investono e questo è il contributo che ha dato in questo ambito il IBM. Ma questa è una panoramica, diciamo, dei due nostri estremi. Partiamo da 1927. Questa fotografia è una conferenza storica a Solvay, nel quale vengono in qualche modo formulate come va interpretata la teccanica quantistica. Ed è quello che vedremo, appunto dopo la 17 premio Nobel, ne ho evidenziati tre. Questo è il nostro numero di tutti, Albert Einstein. Sopra abbiamo Schrödinger, che oggi incontreremo a più riprese. E qui abbiamo Blank, che anche vedremo. Sono quindi tre nomi che torneranno nei diversi aspetti e questo è un punto fondamentale nel percorso scientifico. E questo invece è l'altro estremo, un articolo del video del 2015, che dice che un nuovo superconduttore sviluppato da IBM, dimostra una tecnica cruciale per lo sviluppo del quantum computer. E qui in caso di oggi vi farei vedere questa volta di interconnessione tra fisica fondamentale e tecnologia, lungo un arco di circa 80 anni. Adesso iniziamo dal lato tecnologico per poi ritornare al punto di vista fondamentale. Allora per iniziare dal lato tecnologico parliamo della macchina di tooling. La macchina di tooling, non so se alcuni di voi hanno visto il film recentemente, se vedessi un game, l'avete visto quello quasi tutti, e sapete come nasce l'obiettivo era rifiutare la macchina enigma. Turing sviluppa il prototipo di computer, che in questo caso è uno scopo specifico di risolvere quel problema dato. Generalmente per marketing tooling si intende un modello strato che descrive qualunque computer, che permette di scrivere una macchina che è capace di risolvere un algoritmo. Quindi marketing tooling è qualunque macchina che sa eseguire un algoritmo e tutte le macchine che oggi noi abbiamo sono una macchina enigma. Il concetto viene sviluppato nel 1940, prenduto per decretare enigma e ovviamente uno sforzo notevole si ha con l'avvento della guerra fredda. L'obiettivo del primo super computer è fare il calcolo balistico. Questo è un esempio, si chiama la legna e il primo computer General Workforce, ovvero un computer che dovrebbe sapere risolvere qualunque problema. L'obiettivo era calcolo balistico, la dimensione di questo computer era al genere di 320 quadrati, il suo elemento chiave non era un transistio ma era una valvola termo ionica. Quando l'accesero saltò la correnta fidalezza, per quanto il calore dissimava. Pesava 30 tonnellate ed era ovviamente meno potente di un iPhone di oggi in qualche modo. E poi abbiamo lo sviluppo in super computer inizialmente pensati per calcoli di ricerca. L'IBM quando vende fuori il primo computer dissero ne vendremo al massimo 5. Poi arriva il personal computer, questo è l'Apple One, oggi è votato 750 miliard dollari, ne esistono 3.000 soldati, ha una memoria di 4KB di RAM. Poi arriva lo sviluppo tecnologico, i super computer di oggi che lavorano con base di silicio, gli iPhone. Allora, l'obiettivo quale potrà essere? Sviluppare questa tecnologia, abbiamo la legge di nuovo che ci dice che ogni mila anni raddoppiamo la potenza di calcolo di inversare il costo del calcolatore. Qual è il limite ultimo? Il transistor lo faremo sempre più di dimensioni ridotte e il limite a un certo punto sarà della dimensione atomica. Non potremmo andare con un transistor che è più piccolo di un atomo e quando parleremo di fisica quantistica e quindi in qualche modo questo progresso dovrà fermarsi e fare un conto con altri tipi di dinamica ed è lì che entra in gioco la fisica quantistica. Qua iniziamo a parlare di dimensioni tipiche di ogni singolo dispositivo che sono delle dimensioni dell'atoma in circa. E per ricollegarci in questo percorso parliamo di D-Wave. D-Wave è quanto un computer che potete comprare, un computer tra miei volete. L'ho pagato 10 milioni di dollari, lo compra, l'hanno comprato fino adesso a NASA, a Cooper, vi parlo di risultati degli ultimi due anni. Questo quanto un computer si può utilizzare utilizzare superconduttori e vi posso fare vedere il nuovo video di presentazione il tuo computer. come viene presentata questa fisica da Cleveland prodotto a 10 milioni di dollari. dal lato commerciale della vicenda e poi andremo al lato fisico. Questa fa parte di risroduzione. risultati che un effetto chiamato l'entanglement è presente in 8 uniti di quantità di informazione. L'entanglement è un passo chiave per creare una piattaforma pratica. I risultati sono stati pubblicati in un giornale fisico. con il mio consiglio di non comprarlo. Perchè? Perchè? Per due motivi. Hanno venduto un prodotto puntando a mettere tanti numeri dentro, ma non si sa se il comportamento che si vede è veramente quantifico e in generale hanno dimostrato un gruppo di strutture con un computer normale che hanno fatto un calcolo in modo più efficiente. questo però vi dimostra che c'è una corsa internazionale in questo contesto. Google ha lanciato il gruppo quantum di computing, hanno preso il mio scienziato che faceva questo presso Volta e gli hanno dato 100 milioni di dollari. IBM l'ho fatto dire prima in attiva. Il governo inglese ha stanziato in questa direzione 350 milioni di dollari fondamentali focalizzati su questa tematica. Questo però è ancora il futuro, ovvero il giorno in cui un quantum computer sarà trabattere i nostri computer che abbiamo oggi non è ancora arrivato. Quindi, diciamo, il marketing che fanno va ampiamente oltre le capacità. Questo era per vedere dove arriveremo. Adesso stiamo a parlare di fisica e torniamo alla fine del 1900. Quindi questo era per vedere da dove adesso siamo alla fine dell'800 e abbiamo una fisica classica. Cosa significa fisica classica? Che tutti i fenomeni sono compresi, abbiamo due tipologie di fenomeni. Alcuni popolano la materia, atomi, altri popolano la radiazione. La materia è fatta da particelle, la radiazione è fatta da onde. All'epoca si riteneva che tutto il sapere entrava in questa tipologia e che la fisica avesse esaurito la sua missione. Qui abbiamo un tipico video che ci dà un'idea della fisica classica. Ovvero, questo è tutto. La morale di questo video è farvi vedere cosa. Che tutto quello che vedete nel video è osservabile, è determinabile. sapete calcolare la realtà delle particelle, sapete visualarle. In questo caso sapete anche chi vincerà e chi perderà. Per esempio il video di coyote. C'è un determinissimo costante in tutta l'evoluzione. Quindi caratterizziamo le particelle con massa, posizione, accelerazione. Ora vi salterò il finale, ma potete prevederlo. E questo è descritto alla legge dei compi F uguale MA, forse uguale a massa per accelerazione. E questo completa la teoria della materia. D'altra parte abbiamo l'elettromagnetismo. Tutte le onde e l'arge X visibile in far rosso sono tutte onde elettromagnetiche descritte dalle cosiddette equazioni di Maxwell. Tutto o niente in questa tipologia, i fisici sono mesi occupati. Per fortuna no, perché iniziano ad osservarsi alcuni esperimenti che non sono descrivibili in base a queste due teorie. Ne cito due. Perché l'atomo risulta avere una struttura di tipo stabile, questo non si conciliava con il genetromagnetismo, e l'effetto fotoelettrico. spiegazione per la quale Albert Einstein vincerà il primo Nobel. L'effetto fotoelettrico è fondamentalmente la base dell'energia fotovoltaica. Quando una radiazione incide sul materiale, vengono espulsi degli elettroni. Quando uno andava a forcire questi esperimenti, otteneva dei risultati che erano in contrasto con una teoria di tipo classico. Ed è questa la cosiddetta crisi della fisica classica. Chi contribuisce a risolvere questa crisi sono i fisici che abbiamo visto prima. Torniamo dunque finalmente a notare che mentre il mondo macroscopico, il mondo dei palloni, dei gatti e la cosiddetta fisica classica descritta dai teorie precedenti, quando andiamo nel mondo microscopico fatto dagli atomi, dai fotomi che sono i quanti di luce, le particelle di luce, dagli ioni che sono atomi carichi, tutto questo dominio è descritto dalla fisica quantistica. Questa teoria viene sviluppata nell'arco di una ventina di anni da una generazione di fisici generalmente molto giovani, alcuni erano un po' più, diciamo, sedo come figure, ma in 15-20 anni questa teoria vede uno sviluppo completo che va in qualche modo a scardinare il concetto di realtà ed è quello che affronteremo adesso. Il punto fondamentale, detto in uno slogan, perché si chiama teoria dei quanti, meccanica teoria quantistica? Perché tutti i processi di interazione tra i corpi sono quantizzati e qualunque fenomeno si iscrive con dei quanti elementari. Abbiamo per esempio la luce, prima si pensava che la luce fosse un'onda, la luce quantizzata, i quanti di luce sono appunto i fotoni, ma generalmente sarà quantizzata anche l'interazione dei nuclei tra gli atomi e tutto questo complesso va a creare questa teoria. in particolare quello che vedremo oggi a livello semplificativo per studiare la teoria quantistica e la sara di quanti di luce e fotoni. Appunto, generalmente, nella cessione che abbiamo, la luce fatta da onde che si propagano nel vuoto, appunto le onde elettromagnetiche, quello che si vede è che invece la luce quantizzata è fatta da fotoni. E qui vediamo una prima equazione che vedremo oggi. Quanto vale l'energia di un singolo fotone? L'espressione è molto semplice. L'energia di un singolo fotone, un singolo quanto, è h per nu, dove h è un numero ben definito che si chiama costante di Planck, Planck è uno di tre che abbiamo visto prima, prima e dopo, e questa costante la rinconteremo fra poco, è dunque un numero fissato, mentre l'u è la frequenza del fotone e la frequenza identifica esattamente il colore. Quindi questo per se sarete forse familiare con il deltromagnetiche. In un deltromagnetiche, quando si cambia la frequenza, si passa dalla luce rossa alla luce violetta. L'unica differenza tra luce rossa e violetta è la frequenza. Ebbè è la frequenza che definisce quanto vale l'energia di un singolo fotone. Se prendiamo per esempio i raggi X, i raggi X hanno una frequenza molto maggiore del visibile, quindi l'energia di un singolo quanto dei raggi X risulta essere maggiore, e molti per cui i raggi X penetrano dentro i tessuti. I molti per cui i raggi gamma sono pericolosi, perché la frequenza è ancora maggiore, quindi sono ancora più dannosi per l'interazione con i tessuti. Allora qui andiamo agli anni dopo la meccanica quantistica. In questa fotografia, quella che abbiamo visto prima, abbiamo Planck qui, l'abbiamo già incontrato per la costante H, abbiamo incontrato Einstein e adesso andremo a incontrare Schrodinger. Quindi, come abbiamo detto, tutto risulta essere quantizzato, ma la quantizzazione è solo l'inizio della teoria. Gli effetti più straordinari vengono dall'introduzione della cosiddetta funzione d'onda, della funzione d'onda che noi cercheremo di incontrare e di capire cosa significa. Allora, per capire cosa è la funzione d'onda, partiamo dalla controparte classica. La controparte classica è F uguale MA, forza uguale massa per accelerazione. Quando abbiamo questa equazione, cosa vediamo? Abbiamo la massa che descrive una concretà del sistema, abbiamo la forza che agisce sul sistema e abbiamo l'accelerazione con l'effetto della forza. Adesso andiamo nel mondo quantistico e vediamo in qualche modo qual è l'equivalente di questa equazione. L'equivalente è l'equazione di Schrodinger. Si studia Fisica al terzo anno e rappresenta l'equazione per descrivere qualunque sistema quantistico non relativistico. Vediamo in questa equazione quali elementi appaiono. Qui abbiamo H tagliato, si chiama tagliato per questo simbolo qui. H tagliato significa H diviso due più greco. E H è appunto la costante di Planck, è la stessa costante che appariva nell'energia del simbolo quanto di luce. Abbiamo qui questo simbolo, la Miltoniana. La Miltoniana descrive il sistema che stiamo considerando, non approfondiremo. Quello che ci interessa è questo simbolo qua, Psi di T, all'interno di questo simbolo che si chiama K. Questa è la funzione d'onda ed è il formalismo matematico con cui andiamo a descrivere i sistemi quantistici. Tutto quello che noi possiamo dire sul sistema è la funzione d'onda. In qualche modo è l'equivalente quantistico di quando andiamo a descrivere una particella con posizione, velocità e accelerazione. La differenza è che la funzione d'onda è un oggetto molto più inaccessibile a noi. Quindi è un formalismo matematico che ci permette di scrivere come il sistema si comporta, ma è qualcosa che riusciremo soltanto a manipolare in modo parziale. Allora, quello che faremo adesso è cercare di vedere un esempio molto semplice, però che ci dà un'intuizione di cosa è la funzione d'onda di una particella. Per fare ciò cerchiamo di rispondere a questa domanda, che cosa è la funzione d'onda, e lo faremo andando ad affrontare un esperimento molto semplice, ma decisamente fondamentale. Quello che andremo ad affrontare è il fenomeno dell'interferenza, quello che il premio Nobel Feynman definì il cuore della meccanica matistica, quello che ne contiene all'interno l'unico mistero. L'interferenza è nota quando prendete un sistema classico, prendete una bacina d'acqua, questo deve essere un video, ma non si muove. In una bacina d'acqua muovete due punte, ogni punto crea due delle onde, queste onde interferiscono tra di loro, e quando le onde interferiscono tra di loro creano delle onde più basse delle onde più alte. E' l'interferenza tra fenomeni ondulatori. Quello che vediamo adesso è cosa succede invece a livello quantistico. Consideriamo comunque il seguente esperimento. Abbiamo una sorgente di particelle, consideriamo questa sorgente, esempio una sorgente di singoli fotoni, una sorgente che emette un fotone alla volta. Poi abbiamo una parete, la parete ha due fori che possiamo otturare come otturatore, e infine abbiamo uno schermo dove andiamo a rivelare, a vedere dove vanno a finire le particelle. Il primo esperimento che facciamo è che copriamo il foro B con l'otturatore e iniziamo a fare questo esperimento più e più volte in cui mandiamo una particella alla volta, lo facciamo più e più volte e andiamo a osservare dove queste particelle copriscono lo schermo finale. Quello che otteniamo è che tutte le particelle finiscono in quest'area, rivediamo in questo plot bidimensionale, le particelle vengono misurate qui, l'esperimento è ripetuto più volte e quindi possiamo determinare una certa probabilità di ottenere la probabilità della particella a seconda della posizione che guardiamo. E' un esperimento che possiamo fare anche classicamente. Dopodiché facciamo un altro esperimento, copriamo il foro A e lasciamo scoperto il foro B, lo ripetiamo sempre con la particella alla volta e andiamo a osservare dove la particella colpisce lo schermo. Quello che otteniamo è il seguente risultato, lo ripetiamo più e più volte dunque che visto sempre in questo visuale, otterremo le particelle che vanno tutte qui. Ripeto, le particelle ne mandiamo una alla volta e sono particelle indivisibili, ovvero la particella non si può dividere in due, è un oggetto elementare. Andiamo a fare questo esperimento andando a scoprire in due fori. Cosa ci aspetteremo secondo un comportamento di tipo classico, ovvero convenzionale? E' che la particella passa o da qui o da qui. Deve avere accumulo in due casi. Se passa dal foro A, lo otteniamo qui. Se passa dal foro B, lo otteniamo qui. Da qualche parte la particella deve passare e dunque se passa da qui verrà qui, se passa da qui la misureremo qui. Cosa facciamo adesso? Facciamo questo esperimento in ambito quantistico. Cosa andiamo a ottenere? Facciamo comunque l'esperimento classico, otteniamo questo. Facciamo l'esperimento con particelle quantistiche, ripeto comunque un foto alla volta. E quello che otteniamo è la seguente figura. Non due picchi determinati, ma una serie di picchi che corrispondono a un'interferenza costruttiva e distruttiva. E quindi otteniamo questa figura ben definita, che chiameremo figura di interferenza. A questo punto ci poniamo la domanda. Questo è quello che abbiamo osservato e dunque è tutto l'esperimento. Da dove è passata la particella? Non può essere passata da A o da B, perché se fosse passata da A o da B non avremmo ottenuto questa figura. E quindi in qualche modo dobbiamo concludere che è come se la particella passasse da A e da B. Perché dico è come sempre, perché nessuno l'ha vista passare da A e da B. Però se noi potenziamo che passa soltanto da un foro o dall'altro, non possiamo spiegare i risultati che osserviamo. E quindi questo inizia a essere una differenza, e la differenza è essenziale tra fisica classica e fisica quantistica, che nell'ambito classico dicono particella a portaggiare lungo il cammino A o lungo il cammino B. Ovvero il cammino A e il cammino B sono due realtà mutualmente esclusive, avviene una realtà o avviene l'altra. In fisica quantistica queste due realtà possono in qualche modo coesistere. Diremo dunque che la particella può viaggiare lungo il cammino A e lungo il cammino B. E questo come lo scriveremo come formalismo? Sfrutteremo la funzione d'onda. E diremo che la particella si trova in uno stato di sovrapposizione di due traiettorie. E questo lo andremo a scrivere nel seguente modo, fotone in A più fotone in B. Questo più significa che queste due realtà questi sono fatti loro. Allora che esperimento potete, la gente si è posta, ma però la particella da qualche parte deve passare. Allora cerco di fare un esperimento più raffinato, che cerca di vedere questa figura di interferenza da cosa è originato. E quindi prendo l'esperimento di prima e sviluppo un apparato di misura molto sofisticato fuori dai due fori, questo strumento indicato in verde e questo strumento ha come obiettivo di andare a misurare dove passa la particella. Ora vedo le carte, vedo da dove passa e uno può pensare che questo strumento è fatto in modo tale da perturbare il meno possibile il viaggio della particella. Uno fa questo esperimento, vede da dove passa la particella e cosa ottiene? E riottiene il comportamento classico. Mentre crea una serie di picchi che erano la figura di interferenza, se noi cerchiamo di capire da dove passa la particella cambia il suo comportamento e ritorna a comportarsi in modo convenzionale. Mi hai ubicato a passare da A o da B, io passo da A o da B e ti ridò come risultato quello che otterresti se facessi questo esperimento con delle patine da ping pong. Poi la conclusione che abbiamo è che noi possiamo semplicemente dire che la particella è fotone in A più fotone in B, questa è la funzione d'onda e la conclusione che otteniamo anche questo è quello che descrive il sistema e otteniamo un cambio radicale perché a livello classico quando noi cerchiamo di misurare la realtà non la stiamo perturbando in linea di principio, possiamo pensare di andare a fare esperimenti che sono poco invasivi. Il cambio che c'è radicale a livello quantistico è che ogni volta che andate a osservare la realtà la state modificando in modo inevitabile. E quindi c'è questo bellissimo slogan che ha coniato John Wheeler è lo stesso fisico che ha coniato il nome dei buchi neri IT FROM BEAT che significa IT vuole dire la realtà ultima BEAT vuole rappresentare l'informazione noi generalmente abbiamo una concezione in cui l'informazione è fia dalla realtà la realtà esiste già io quando vado a guardare la realtà che ci circonda acquisisco dell'informazione invece il cambio radicale lo che hai capito in questo caso è che la realtà è il figlio dell'informazione che voi acquisite schiessa la realtà è creata dalle nostre domande ovvero dall'informazione acquisita con l'altra parte otteniamo il principio di Heisenberg l'osservazione per tutto il fenomeno allora abbiamo adesso una domanda che ci si pone successiva cosa significa dire fotone in A più fotone in B ovvero questa funzione d'onda che noi abbiamo scritto è un artificio che abbiamo sviluppato noi fisici e matematici cioè loro hanno sviluppato per descrivere la realtà è soltanto uno strumento oppure la funzione d'onda rappresenta veramente la realtà ultima detto in termini più filosofici la funzione d'onda ha una natura di tipo epistemologico oppure ontologico epistemologico significa discorso sulla conoscenza è soltanto uno strumento che adoperiamo che funziona ma che non ha una che vede con la realtà invece una visione ontologica della funzione d'onda vuol dire la realtà del mondo è quella che è scritta in questa espressione è la realtà ultima e proprio questa sono questi stati che coesistono fra i B non è un nostro problema nel vedere la realtà la realtà è veramente due diversi stati allo stesso momento e questo dibattito epistemologico-ontologico dura da 1920 con diversi contributi filosofici ma anche con esperimenti che hanno cercato di andare ad intagare qual è la vera natura della funzione d'onda questa è la domanda e quindi questo appunto ritorno su questo punto su che cosa è la funzione d'onda allora la visione che sviluppavano i fisici nel 1927 fu un approccio da fisici sperimentali questo formalismo che dice che esiste una realtà con i sostegni ci serve soltanto a descrivere gli esperimenti la meccana quantistica è in accordo al 100% con tutti gli esperimenti e poi dici lo scopo della nostra descrizione della natura non è il cercare l'essenza dei fenomeni ma soltanto l'indagare con la massima profondità possibile le relazioni tra i molteplici aspetti della nostra esperienza ovvero il nostro scopo in quanto fisici sperimentali è soltanto descrivere la realtà e non interrogarci su qual è la realtà ultima oltre ai nostri osservazioni questo vuole dire che in realtà la teoria quantistica è una teoria che viene chiamata FAP for all practical purposes per tutti i fini pratici descrive gli esperimenti andiamo al laboratorio gli esperimenti sono a conto con la teoria questo è il nostro scopo non dobbiamo chiederci cosa c'è a livello successivo questa è la interpretazione della corrente diciamo capitonata Nisbor in realtà cosa la realtà ha richiamato in tutta una serie di esperimenti possiamo citare i lavori di De Spagna sul cosiddetto reale velato lui appunto ha investigato l'aspetto filosofico della funzione d'onda e per questo ha vinto i migliori di sterline per i suoi contributi da parte della Templeton Foundation ma l'aspetto interpretativo della funzione d'onda è tutt'oggi un esperimento aperto volevo mostrarvi sempre per collegare queste ricerche con gli ultimi esperimenti questo esperimento realizzato nel febbraio 2015 tre mesi fa pubblicato sugli esibili il titolo è misura sulla realtà della funzione d'onda hanno cercato di sono esperimenti molto recenti che cercano di andare a formulare delle ipotesi sulla funzione d'onda per cercare di capire se questa funzione d'onda è in alcuna epistemologica o ontologica che conclusione ottengo di queste realtà in questo articolo dicono questa è la fase di corso se noi assumiamo che esiste una realtà oggettiva questa è un'assunzione se esiste una realtà oggettiva i loro risultati rafforzano la visione che la funzione d'onda corrisponde a tutta la realtà loro fanno ipotesi esiste la realtà la conclusione potrebbe che se la realtà esiste la realtà è la funzione d'onda è una conclusione molto forte uno può però dubitare dell'ipotesi la realtà potrebbe non esistere in modo obiettivo sto andando questi dibattiti sono fondamentali perché c'erano diverse correnti e qui fondamentale c'è il contributo di Albert Einstein Albert Einstein contribuì a fare la teoria quantistica ma in qualche modo a un certo punto non accendò il risultato finale lui aveva la famosa frase esistere in cielo se non la guardo cosa voleva dire che se io non guardo la luna la luna è comunque lì dunque la realtà deve esistere indipendentemente dalla mia osservazione quindi è stato per diversi anni diciamo cerca di sviluppare una teoria alternativa alla teoria quantistica e allora ho scambiato il mio slide vedete un attimo è un aspetto che oggi possiamo notare dopo molti anni e io ho raccontato prima degli esperimenti fatti con un fotone allora uno può farli con un fotone e può ipotizzare di mandare un elettrone alla volta sono esperimenti raffinati uno è un calvone di elettrone fa una parete con due finiture e va a misurare sullo schermo dove gli elettroni vanno a colpire lo schermo e quello che si è osservato questi sono esperimenti di qualche dicione anni fa questo è la misura fatta sullo schermo vedete queste france chiare e scure sono le france di interferenza i picchi che vedevamo prima cosa significa che mandando singoli elettroni possiamo osservare un fenomeno di interferenza di tipo quantistico la domanda che uno si pone è prendiamo un pallone di calcio prendiamo una parete facciamole fuori lanciamo un pallone di calcio su una parete un pallone di calcio può passare simultaneamente dalle tue venditure secondo voi? no però il pallone di calcio è fatto da atomi ed elettroni quindi i singoli costituenti si comportano in modo quantistico il pallone di calcio invece si comporta nel modo naif quotidiano in cui la realtà è una con l'altra questo è chiaro ma immaginiamo un piccolo pallone di calcio quel pallone di calcio abbiamo il fullerene il fullerene è una molecola fatta da 60 atomi di carbonio che costituiscono a seguente geometria e uno si può chiedere io prendo un fullerene che non è un pallone di calcio ma è più di un singolo elettrone riesco a osservare un'interferenza quantistica usando molecoli di fullerene questo è stato osservato per la prima volta nel 2001 ovvero hanno visto un'interferenza che coinvolgeva un sistema fatto da 60 atomi un'interferenza quantistica ovviamente con esperimenti molto raffinati e quindi in qualche modo il fullerene riesce a comportarsi ci fa vedere le proprietà quantistiche in due possibili traiettorie stanno interferendo fra di loro quindi le proprietà quantistiche non vediamo più sul singolo atomo ma riusciamo a vedere un qualcosa che è più grande se andiamo al 2011 esattamente di questo tipo di questo tipo pubblicato su National Communication il titolo è Quantum Interference of Large Organic Molecules hanno visto un'interferenza quantistica con un sistema fatto da 430 atomi questo è il fullerene rappresentato questa è la molecola che hanno con il quale sono stati riusciti a vedere questo fenomeno di interferenza però quello che ci sono cercano di fare è di riuscire a osservare questi fenomeni con un batterio di dimensioni più possibili ridotte allora noi abbiamo un'accezione abbiamo una visione in cui abbiamo il mondo macroscopico in cui viviamo noi fatto dalla fisica classica e poi abbiamo il mondo microscopico fatto abbiamo scoperto un atomo un elettrone adesso oggi abbiamo aggiunto il fullerene abbiamo aggiunto dei sistemi con 500 atomi che si comportano in modo quantistico dove appunto possiamo avere due realtà che poi esistono allo stesso tempo la domanda che ci si può porre è dov'è il limite e il confine fra queste due realtà questo confine ben definito oppure un confine labile che possiamo cercare di spostare in modo da avvicinare il mondo in cui viviamo noi al mondo di tipo quantistico e questo problema è già Schrödinger Schrödinger l'abbiamo già citato per l'equazione di Schrödinger nel 35 in risposta all'articolo di Einstein che vedremo successivamente era un esperimentonamento un cosiddetto Gedanke experiment lui cercò di pensare un esperimento che permetteva di me di studiare questa transizione dal mondo microscopico al mondo macroscopico che ragionamento faceva lui dice consideriamo un oggetto quantistico un singolo atomo un atomo radioattivo un atomo che è radioattivo ogni tanto decade emettendo un fotone una particella e l'atomo è quantistico può essere in uno stato in cui è allo stesso tempo decaduto e non decaduto quando decade emette un fotone il fotone è rivelato da un contatore di particelle il contatore di particelle attiva un martello il martello cade e rompe una fiala la fiala uccide il gatto cosa abbiamo ottenuto? che la particella può essere decaduta e non decaduta e quindi il gatto dovrebbe essere vivo e morto allo stesso tempo quindi questa è una figura un po' più attualizzata dell'esperimento in cui avete il martello che decade l'atomo che decade e non decade il martello che cade e non cade la fiala che è rotta e non rotta il gatto che è vivo e morto se noi questo lo scriviamo con la funzione d'onda possiamo scrivere la seguente funzione d'onda qui in cui l'atomo è non decaduto e il gatto è vivo combinazione lineare atomo decaduto gatto morto ora ci si chiede perché noi non ne osserviamo mai gatti che sono vivi e morti le risposte che si danno generalmente a questa domanda sono piuttosto naif si dice perché se uno vuole vedere un gatto vivo e morto allo stesso tempo deve pensare un esperimento in modo opportuno e deve fare anche la domanda giusta al gatto se voi vuole vedere un gatto che è vivo e morto gli chiedete non prendiamo gatti che è morti è tutta una metafora i nostri gatti sono dei fasci di luce allora se uno chiede un gatto si è vivo o si è morto lui risponderà vivo o morto perché la domanda era quella se vuole vedere un gatto che è vivo e morto va a fare un'altra domanda si va chiesto ma se è vivo più morto o se è vivo o meno morto a questa domanda il gatto potrebbe rispondere che è vivo o più morto ovvero la descrizione generalmente che viene data perché non si servono gatti vivi e morti è un po' naif allora a questo punto dobbiamo dunque fare una domanda al gatto che sia quella giusta il bachista se è vivo e morto o vivo o meno morto e poi abbiamo un problema che questa domanda l'hanno già fatta tante molecole nella scatola voi avete la fiala il gatto le molecole l'ambiente la temperatura migliori di molecole che in modo naturale acquisiscono informazioni sul sistema stanno acquisendo informazioni perché se il gatto è vivo o morto cambierà la temperatura cambieranno le molecole cambierà la configurazione cambierà l'emissione radioattiva che fa l'atomo l'ambiente circostante acquisisce informazioni sul gatto l'abbiamo già visto prima it from it questa informazione che prende l'ambiente sta modificando la realtà e quindi ancora prima che voi fate l'esperimento l'avete circostante ha già estratto l'informazione e voi che arrivate dopo ormai il gatto è vivo o morto cosa voglio dire? questo è stato chiamato il processo di darwinismo quantistico ovvero a livello naturale l'evoluzione quantistica forza il sistema a evolvere da una sovrapposizione a realtà che sicuramente sono usine allora uno da tempo si è cercato di fare esperimenti che in laboratorio cercavano di riprodurre delle realtà che non erano dati erano atomi, fotoni catene di atomi che replicavano questo esperimento di gatto vivo e morto in particolare in particolare ci tenei il Sergio Roche dell'Economia Spiegelo che per questi esperimenti nel 2012 avendo il primo d'opera cosa ha fatto lui? ha creato un gatto che è ricatto era un campo di luce in una cavità in questa cavità da giallo degli atomi è riuscito a creare in questa cavità in condizioni molto spinte un equivalente di un gatto vivo e morto che è ricatto un campo elettromagnetico un campo di luce che era o così o così e lui ha studiato come l'ambiente circostante prende informazioni da questo gatto e facendo ciò ha osservato in modo controllato la transizione tra il mondo quantistico e il mondo plastico ed ha visto sperimentalmente come tante più particelle costituiscono un campo quantistico tanto più il comportamento che si vede passa dal mondo quantistico al mondo plastico e da questo possiamo rappresentarlo con questa immagine questo è il mondo classico che viviamo noi questo è il mondo quantistico dove il fumo può fare due cammini allo stesso tempo e questi esperimenti hanno messo in luce in modo controllato in modo perfettamente in accordo con la teoria e la transizione tra questo mondo e questo mondo a questo punto vi farei vedere un'altra spiegazione del gatto di Schrödinger non fatta da me ma fatta da una serie di bibliotechi e vedrete se quello che spiega lui è in accordo con quanto ho detto io in modo potente con leonard in modo potente con leonard potente con leonard potente può essere considerata sia bene vivo o morto ma come ho detto per vedere il gatto che è vivo o morto bisogna fare la domanda giusta non chiedere se è vivo o morto adesso torniamo questo era una parentesi la transizione dal mondo microscopico al mondo macroscopico torniamo a Einstein come ho detto lui non accettava questa interpretazione alla realtà lui non voleva rinunciare al concetto di determinismo al fatto che la realtà esistesse indipendentemente dalla nostra osservazione ci lavora diversi anni e nel 35 pubblica un articolo con due colleghi con lo Schierosen in cui cerca di dimostrare che la grammatissima è una teoria non definitiva non può essere la teoria finale questo articolo passa su New York Times quando esce questo articolo il titolo è Einstein's Attacks Quantum Theory e quindi questo articolo che io considero di istante che considero sbagliato nel senso che l'argomentazione è molto elegante l'articolo è bellissimo sono quattro pagine solo la conclusione che lui dà non è corretta ciò nonostante noi articoli più citati è la fisica quindi anche un lavoro che da interpretazione non corretta può stimolare il lavoro degli altri che invece sono cresciuti risolutivi cosa fa Einstein? scopre una proprietà più interessante della meccanica quantistica dice ok invece di considerare una particella considero due particelle A e B cosa abbiamo scoperto? quindi sono le particelle A e B questo page indica la particella una sta qui l'altra sta lì queste particelle possono essere nello stato 0 o 1 ma saranno il mondo quantissimo quindi possono essere diversi stati allo stesso tempo possiamo avere per esempio che A è nello stato 0 1 è nello stato B e allo stesso tempo A è nello stato 1 e 0 è nello stato B questo stato qui è uno stato che ha grovigliato ovvero la funzione d'onda delle particelle A e B non si può dividere in due parti separate sono state loro intrecciate e quindi lo stato di A è inevitabilmente legato allo stato della particella B questo stato lo chiamano grovigliato in italiano in inglese si chiama entanglement e questa proprietà di grovigliamento si chiama entanglement la conclusione di Einstein è la meccania quantistica prevede che ciò sia possibile a livello teorico io non posso avere uno stato grovigliato tra queste due particelle perché poi le posso portare lontano e lontano e queste rimangono grovigliate il giorno è possibile la teoria deve essere completata questo articolo è del 35 nell'82 per la prima volta questi stati verranno generati in laboratorio verranno osservati l'interno è possibile si osserva nel nostro laboratorio ogni giorno generiamo di migliaia di fizzati entanglement li manipoliamo li trasportiamo e quindi questo entanglement esiste è una proprietà fisica che è prevista alla teoria e si può osservare in laboratorio qual è l'aspetto in qualche modo consensitivo che due particelle entanglement la funzione d'onda che li descrive è argomediata quindi posso creare due particelle per esempio due fotoni li creo mediante un cristallo mando un fotone di là un fotone di là magari anche a chilometri di distanza faccio degli esperimenti sulle due particelle e queste risultano essere collegate fra di loro in un modo che è classicamente non esprimabile e questo può essere dimostrato teoricamente in modo formale e gli esperimenti risultano essere in perfetto accordo con la teoria e quello Schrodinger definisce l'entanglement come l'aspetto caratteristico della meccanica quantistica lui dice non è uno ma il strato caratteristico che la rende unica adesso la pluralità ci dice non importa quanto spazio intercorrano fra le particelle correlate queste comunicheranno fra virgolette fra di loro come se non ci fosse uno spazio fra di loro comunicheranno fra di loro perché questo tipo di argomigliamento molto particolare per esempio non può essere adoperato per comunicare ovvero se lo dicevo Alice e Bob distanti e Alice vuole mandare un messaggio in modo istantale a Bob non può usare il tecnic per farlo ovvero è un intrecciamento fra le due ma un intrecciamento totale che per qualche magia rispetta perfettamente la relatività rispetta di Einstein c'è una coesistenza specifica fra le due teorie le particelle sono intended ma ciò nonostante non posso usarlo per comunicarlo in modo istantaneo come avevo detto prima sono stati visti queste proprietà intended le prime volte alle 82 a Parigi da allora siamo fatti numerosi degli esperimenti vicino a un esperimento del 2007 che per me ci risulta molto affascinante a livello anche tecnologico sono stati creati una qualche di fotoni e due sono riusciti a mandare un fotone dall'isola La Palma all'isola Tenerife ora un fotone alla volta quindi mandare un fotone alla volta da un'isola a un'altra isola considerando tutta la lucidità di notte l'esperimento non è uno scopo tecnologico banale ovviamente ne hanno mandati tanti fotoni c'è una tante coppie di due fotoni raccomigliate molti si sono presi su un cliccarino hanno usato dei telescopi opportuni dall'istante di 144 km e quello che hanno visto che le particelle erano ancora il Tenglement e come si scopla nel Tenglement si vanno a fare tante diverse misure su questi fotoni e combinando tutte queste diverse e come se andassimo a vedere tante diverse direzioni se uno è orizzontale l'altro è verticale se uno è verticale l'altro è orizzontale se uno è a 45 gradi l'altro è a meno 45 se uno è a meno 45 l'altro è a meno 45 se uno gira verso destra l'altro gira verso sinistra tutte queste osservazioni fatte in contemporanea se uno è a meno 45 per dare un rispondo ultimo la Cina è entrata nel gioco pesantemente e vuole essere una missione e vogliono mandare una sorgente di coppie in Tenglement su un satellite creare coppie in Tenglement da un satellite su due postazioni terrestre separate e andare a osservare la Tenglement tra queste due postazioni separate questo perché lo facciamo? perché sono studi della fisica fondamentale ma ovviamente quando gli esperimenti prendono questa portata lo si fa anche per scopi tecnologici e qui Ciri congiungiava il punto di partenzio più del quantistico allora facciamo partendo l'informazione classica questa è l'immagine che è stata la Fib Matrix la realtà è fatta da informazione cosa sono i bit? i bit cosa sono? variabili dicotomiche che assumono soltanto i valori 0 o 1 e il qubit i bit l'abbiamo visto poi l'abbiamo in più i computer abbiamo già visto questo argomento cosa facciamo adesso ovviamente? i qubit ovvero il quantum bit cos'è il quantum bit? è un sistema che può è quantistico quindi dobbiamo avere un fotone un atomo un elezione ed è qualcosa che allo stesso tempo è nello stato 0 e nello stato 1 qual è l'interesse? è come avere immaginate un calcolatore noi facciamo un calcolatore facciamo un calcolo alla volta decidiamo un input facciamo una modificazione immaginate invece un calcolatore che può allo stesso tempo fare tutti i calcoli possibili perché non è limitato avere un input 0 o 1 un input può avere tutti gli stati in simultanea e questo è un computer quantistico ovviamente non è banale metterlo e non è banale estrarre l'informazione da un computer quantistico quello che facciamo noi per esempio come realizziamo i qubit manipoliamo un fotone alla volta prendiamo un fotone scriviamo l'informazione sulla polarizzazione di un singolo fotone e lungo le chip integrati facciamo proprio noi questi fotoni in modo da elaborare l'informazione e questo è il nostro computer quantistico a questo punto abbiamo visto gli aspetti fondamentali abbiamo visto la funzione d'onda abbiamo visto la differenza tra il mondo microscopico e il mondo macroscopico abbiamo visto che l'idea dell'informazione quantistica è quella di spuntare queste proprietà per elaborare le informazioni in modo più efficiente usando i qubit e qui dovrei dare un'idea di quello che è terra sporto in questi 5 minuti che mi rimangono cos'è terra sporto? e uno c'è in mente ha questo tipo di protocollo due pianeti cioè un vero comandone nel nostro caso abbiamo due particelle che sono interiore tra di loro e quello che vogliamo fare è sfruttare questo per trasferire informazione quantistica allora quello che vogliamo trasferire è un qubit e vogliamo trasferire da una postazione all'altra in questo caso il qubit è rappresentato da un atomo come possiamo trasferire un qubit? potremmo cercare di misurarlo ma abbiamo già visto che quando misuriamo lo stato quantistico lo perturbiamo cioè se vuoi trasferire l'informazione quantistica e cerco di misurarla la perturbo in modo inevitabile e quindi dobbiamo sviluppare un altro protocollo e il protocollo è il seguente questo è il qubit che vogliamo teletrasportare questo è un singolo atomo un singolo fotone una singola particella per fare ciò usiamo altre due particelle B e C che sono in tempo per far di nuovo ovvero sono aggovigliate B è nella postazione di partenza dove vogliamo teletrasportare l'informazione C è nella postazione di arrivo quello che facciamo è che non misuriamo soltanto la particella A facciamo una misura su A e B contemporaneamente indicato qui misuriamo la proprietà collettiva di queste due particelle e inviamo l'informazione alla particella C la particolarità è che B e C sono aggovigliate tra di loro e quindi in qualche modo la misura che si fa su B ha un effetto istantaneo sulla particella C quello che si ottiene è che con questa informazione che arriva da dove abbiamo fatto la misura al posto finale la particella C diventa di gruppo la particella iniziale quindi la particella iniziale è stata distrutta perché è stata misurata in questo processo ma grazie a questa misura congiunta fatta su A e B lo stato di A che rappresenta qui è stato trasportato alla fine quindi in qualche modo quello che abbiamo fatto noi è stato decomporre l'informazione quantistica iniziale riottenendola alla fine questo ovviamente è stato fatto su singole particelle su singoli fotoni il primo esperimento fatto a Roma nel 1997 io ho fatto il dottorato con lui nel 2000 al 2003 nel 1997 alla fine lo fa a Vienna oggi diversi laboratori l'hanno fatto nel mondo ma il punto fondamentale è che noi stiamo trasportando la funzione d'onda non la particella ma è l'informazione quantistica della particella che si è trasportata da una particella ad un'altra e quello che poi ci siamo riusciti a fare questo è un esperimento fatto in Cina è stato fatto su 140 km nuovamente per un singolo fotone e questo è un esperimento fatto con lo stesso apparato operato prima fra l'isole da Valva e l'isole questo perché alla fine non abbiamo il teletrasporto all'altra 3 siamo semplicemente siamo capaci di teletrasportare questa informazione quantistica senza conoscerla l'aspetto interessante è che la particella A viene discuta qui viene ottenuta qui senza che noi abbiamo alcuna informazione su quello che è stato trasferito in questo si chiama teletrasporto quantistico non si può estendere direi a una scala varicolica per il problema che abbiamo visto prima quando passiamo l'amicoscopico e l'amicoscopico i fenomeni quantistici li perdiamo però dove quindi questo vi faccio vedere adesso nuovamente una spiegazione integrativa su teletrasporto qui è qui è è qui è qui è qui è qui quindi quello che vedete in questo caso secondo me queste particelle sono distrutte e si ottiene alla fine una particella identica all'originale che deve essere distrutto sfruttando l'accomignamento questo perché? perché è ricerca di base ma un motivo dove ha un'applicazione oggi diciamo in prospettiva è la crittografia quantistica prima di Cinalo erano partiti da Enigma dalla macchina Enigma e da come è stata decryptata tutti gli algoritmi crittografici che adoperiamo oggi per scambiare informazioni sfusano problemi matematici difficili da risolvere ovvero noi scambiamo delle chiavi con dei protocolli di sicurezza perché ipotizziamo che il nostro nemico può avere dei soldi ma la strana faccia di calcolo ha sempre un limite ovvero facciamo dell'ipotesi la nostra sicurezza si basa che il nostro antagonista è limitato dalla tecnologia di utilizza e questo è il caso sul nord americano dove hanno letto tutti i messaggi avevano un supercompone si buttavano delle palle nei protocolli di crittografia e quindi erano in grado di filtrare tutti i messaggi della Merkel e così via nel 1984 le ricercature di Biela avevano l'idea di sfruttare i stati quantistici per evitare un protocolli di crittografia che si chiama crittografia quantistica che è intrinsecamente sicuro cosa sfrutta? cupid trasmessi da Alice e da Bob e sfrutta il fatto che se una spia cerca di leggere questo cupid inevitabilmente sta perturbando lo stato quantistico quindi anche se arriva un avieno che ha una generazione tecnologica miliardi davanti di noi lui comunque deve soddisfare leggi quantistiche e quindi neanche lui è in grado di decrimitare i nostri messaggi questa si chiama sicurezza incondizionale perché non stiamo mettendo alcun vincolo alla potenza del nostro avversario questi già lasciano 84 oggi esistono le crittografie che si possono comprare costano 200.000 euro il problema è che costano tanto sono ancora in fase di sviluppo di vendolato Shiba Indicontic compagnie giapponesi e ovviamente non si sente ancora oggi la necessità di avere questi dispositivi anche se caso Snowden ha un po' diciamo fatto fare diversi ripensamenti limitati che sono molti di queste tecnologie oggi in Stati Uniti e altri paesi prende questi sistemi di crittografia che oggi arrivano fino a 200 km ovvero per me la distanza massima fra l'Iceo Bob è limitata a questa distanza non posso spedizionare se spiegate all'interno scopo quantistico serve proseguire in questo ambito perché permette di estendere la portata di questa crittografia quantistica ho dovuto immaginare di avere Alice e Bob e di avere dei specifici ossificatori Alice e Bob devono condividere una grave segreta vengono mandati dei cubiti dei fotoni da Alice e da Bob e per stendere la portata della comunicazione si usano stati aggroviati e le morie quantistiche e su questo diversi gruppi stanno oggi facendo ricerca quindi abbiamo visto il trasporto a livello fondamentale per studi sulla fisica fondamentale e qui c'è una controparte che è un aspetto tecnologico applicativo legato all'informazione quantistica come vi dicevo prima quello su cui si fa ricerca molto oggi è cercare di sfruttare questi cubiti per elaborare l'informazione ci sono i primi risultati ma la sfida è molto ambiziosa ad esempio da noi nei nostri laboratori abbiamo 8 cubiti 10 cubiti non è male ma bisogna fare di più la D-Wave dice che ne ha 512 ma non è vero perché non si comportano tutti a livello quantistico quindi i claim che fanno non sono motivati il problema del computer quantistico è analogo al problema del gatto di Schrodinger quello del gatto di Schrodinger perché si comporta in modo classico perché l'ambiente acquisisce informazioni sul gatto e il gatto da che era il mio morto vi appare come il mio morto immaginate di avere un computer quantistico sono tanti transistor quantistici tutti in 0 e 1 allo stesso tempo ma il computer è in un ambiente l'ambiente sta interagendo con il vostro dispositivo in qualche modo sta acquisendo informazioni in modo non desiderato da voi ma lo sta facendo quindi il computer era quantistico ma se è troppo grande inizia a comportarsi in modo classico non fate più tutti i conti in parallelo ma soltanto un singolo conto è il problema della transizione dal mondo quantistico al mondo classico un computer quantistico quello vittima di avere un oggetto macroscopico non di materia biologica fatta da superconduttori che mantenga un comportamento quantistico anche quando la taglia diventa elevata e per far raggiungersi sviluppato dei protocolli di cosiddetta quantum error correction i contenuti quantistici ci sono tre progetti dominanti diciamo tre atomi superconduttori che sono a temperature bassissime vicino all'osservo assoluto c'è meno rumore atomi intrappolati in reticoli ossici e come lo facciamo noi simboli fotoni che viaggiano nei circuiti integrati dove la luce viene manipolata qual è il problema su cui tutti lavoriamo è riuscire a spostare per questo nostro dispositivo la frontiera fra mondo quantistico e mondo classico questa frontiera a un certo punto non riusciremo ad andare oltre l'obiettivo però è riuscire a spostarle in modo da fare dei conti con un sistema quantistico in modo più efficiente rispetto a un sistema classico e questo è quello che noi c'erchiamo nella ricerca della supremazia quantistica cioè cercare di avere un dispositivo quantistico controllato che permetta di essere più efficiente della sua controparte classica tutto questo con l'obiettivo di sfruttare il parelismo quantistico mi sono un po' deludato e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione per la vostra attenzione per la vostra attenzione grazie a tutti i nostri spettatori